Amici, leggetevi forte, perché nonostante la colonna sonora malinconica, oggi un video da leccarsi i baffi. Ecco, appunto. Insomma, oggi sono il vostro Alexander Fleming, colui che vi tirerà fuori da questa maledetta influenza. Sì, amici miei, perché veramente la penicellina non basta più, ci vuole solo una grandissima bistecca. Ma pensate che cosa meravigliosa, curarsi gustando una meravigliosa bistecca. Ecco, vi porto nel paradiso della bistecca. Iniziamo subito con questa costata di scottona, perfetta per chi esce dai sintomi influenzali come me. C'è una trachea e non riesco nemmeno a parlare. Poi passiamo a questo bifo sempre di scottona, eccezionale, tenero, delicatissimo, ma veramente una carne superlativa. Poi passiamo a questo bifo, vedete, questa è una limousine. Questa è una carne veramente eccezionale. È delicata, ha le giuste proprietà nutritive. È quello che serve ai giovani, perché i giovani hanno bisogno di carne rossa. Da questa passiamo alla fassona. Come vedete, taglio più piccolo, maressatura diversa, un sapore veramente delicato, però unito a una sfumatura che in bocca vi cambia totalmente le proprietà organovertiche. Questo è uno spettacolo. E poi concludiamo con queste due costate, vedete, scottona e limousine. Due tipi di carne diversi, lo stesso taglio, il colore, la sfumatura, la carne completamente diversa. Signori, noi vi possiamo dare tutto quello che vi volete. E ricordate che se siete stati influenzati come me, questo è molto, ma molto meglio dell'antipiore. Ho detto tutto. Vi prego, perdonatelo, l'influenza veramente lo ha messo alle strette. Ce la siamo vista brutta. Grazie a tutti.